Che ti piaccia o no, i conflitti in una coppia sono inevitabili. Ecco il titolo di questa puntata, l'amore si batte lealmente. Quando vi siete uniti, non avete unito soltanto le vostre speranze e i vostri sogni, ma anche le vostre paure, le vostre ferite e le vostre imperfezioni. Con il tempo, ecco che arriva la scoperta l'uno dell'altro. Vi siete resi conto come entrambi siete potenzialmente peccaminosi ed egoisti. Nello stesso tempo, le tempeste della vita hanno iniziato a mettervi alla prova e a rivelare di che pasta si è fatto realmente. Esigenze di lavoro, problemi di salute, discussioni con amici e parenti e necessità economiche. Queste molto spesso caricano di difficoltà la relazione di coppia. Questo ha permesso di preparare la strada a tutti i disaccordi. Avete discusso e litigato e anche tanto sofferto. Ogni coppia ci passa, ma purtroppo non tutte le coppie sopravvivono a questa cosa. Non pensare che superando la sfida di questa settimana sopererai ogni conflitto. Si tratta piuttosto di affrontare ogni conflitto in modo tale da uscirne rinvigoriti. Nel mezzo di un conflitto, prendi le decisioni peggiori. E quando i conflitti iniziano a prendere il sopravvento, nessuno dei due riesce a mettere il piede sul freno. Ma l'amore cambia le cose. Ti ricorda che il tuo amore è il troppo prezioso per permettergli di autodistruggersi. La persona che ami è più importante di qualsiasi cosa tu stia combattendo. L'amore ti aiuta ad installare gli airbag e ti ricorda che il conflitto può essere rovesciato in qualcosa di buono. Le coppie che imparano a fare questo tendono a essere più intime, più fiduciose e di godere di una connessione molto più profonda. Costruire ponti invece di mura. E ricorda che l'amore non è un combattimento, ma che ne vale la pena battersi per esso. Ecco la sfida della settimana. Concorda con la persona che ami un bel piano di combattimento. Crede una lista e scrivete cose del genere, come ad esempio non ci faremo più del male, non discuteremo più in pubblico, non diremo più di lasciarci. E se l'altra persona non è ancora pronta per fare questa lista, allora inizia a farla da solo, per la prossima volta che si presenterà il prossimo disaccordo. E ricorda, l'amore vince su tutto!